All'interno di Adobe After Effects abbiamo uno strumento importantissimo che è la Pen Tool. Il Pen Tool, conosciuto anche nei software di disegno o di fotoritocco come Photoshop e Illustrator, è uno strumento che serve a disegnare forme. E noi abbiamo due possibilità per poter disegnare delle forme. La prima è quella di effettivamente creare una forma. È una delle due proprietà che ha questo strumento, mentre l'altra è quella di creare delle maschere. Qual è la differenza? Il Pen Tool viene utilizzato per creare forme quando non si è selezionato alcun tipo di livello. Ad esempio, nel caso in cui non avessi nessun livello o non ho nessun livello selezionato, nel momento in cui comincio a cliccare, lui realizzerà un livello shape, ossia un livello forma. E io così facendo, tramite curve Bézier, potrò andare a disegnare una forma. Allo stesso modo, se io dovessi invece avere all'interno della mia composizione un elemento, che sia un solido, che sia un'immagine, che sia un video, e utilizzo lo strumento Pen Tool mantenendo selezionato il mio livello, questo andrà a creare non una forma, ma una maschera. Le maschere sono letteralmente un taglio dell'immagine. Quello che in questo momento sto facendo è disegnare quello che io voglia che venga conservato all'interno del mio oggetto. Nel momento in cui andrò a chiudere la mia maschera, questa ritaglierà tutto il resto. E come vedete, il resto diventerà trasparente. Quindi lo strumento Pen Tool viene utilizzato per creare sia maschere che delle forme e per entrambe le tipologie di disegno abbiamo gli stessi medesimi strumenti. Abbiamo quindi il Pen Tool che ci guida nella costruzione della nostra forma e particolarità nel momento in cui noi continuiamo a disegnare, se siamo all'interno di un livello selezionato, lui creerà un'altra maschera che verrà aggiunta a quella precedente, ma sono comunque e rimangono due maschere completamente differenti. Possiamo quindi avere più maschere sullo stesso livello. Un'altra funzione importante dello strumento Pen Tool, come per gli altri software di disegno, se noi cominciamo a disegnare e diamo un clic solo, verrà creato un punto non bezier. Nel momento in cui invece clicchiamo e trasciniamo, verrà creato un punto con le maniglie bezier. Questo significa che possiamo andare a creare delle curve modificabili in secondo momento, ma possiamo andare ad alternare tranquillamente le varie tipologie di punti. Se poi utilizziamo lo strumento di selezione, possiamo tranquillamente prendere i nostri punti e andare a modificare le maniglie bezier. Oppure all'interno del nostro strumento Pen Tool, mantenendo premuto sul pulsantino della toolbar, troviamo diverse funzioni. La prima, naturalmente, è il Pen Tool. Poi abbiamo lo strumento per aggiungere dei vertici, quindi abbiamo la possibilità di aggiungere dei punti. Abbiamo lo strumento per rimuovere i vertici. Abbiamo lo strumento per convertire un vertice che dà un punto a un punto bezier. Quindi nel momento in cui clicco, in questo caso, su un punto bezier, diventerà un punto normale. Viceversa, andando a cliccare o a trascinare, quindi un determinato punto, si trasformerà nella sua controparte. E questi strumenti valgono sia per le maschere che per le forme. Ultimo strumento che abbiamo a disposizione è il Mask Feather Tool. È uno strumento per creare una sfumatura all'interno della nostra maschera. Ci basterà cliccare in un qualsiasi punto della nostra maschera, andare a tirare il nostro punto e questa verrà creata una sfumatura nella nostra forma. Sfumatura che noi possiamo anche gestire in una maniera differente. Questo è uno strumento che crea una sfumatura visibile con un tool all'interno di After Effects. Possiamo andare a gestire una sfumatura totalmente dinamica, quindi possiamo decidere che un determinato punto sia più sfumato piuttosto che un altro. Questo strumento è molto ma molto utile durante la creazione di maschere su immagini, perché così facendo possiamo creare delle forme molto particolari. Grazie.